Siamo a Pineto, a ridosso della scuola Giovanni XXIII, un incidente simulato, di che cosa si tratta comandante Cichella? Si tratta di un tamponamento, in realtà oggi stiamo insegnando ai ragazzi quello che le forze dell'ordine, le forze di polizia fanno sul territorio. Il territorio è stato diviso in cinque settori, ogni forza di polizia ha un suo settore e dimostra quello che fa abitualmente. Poco più avanti c'è la guardia di finanza con i cani che sta facendo un'interessantissima esibizione per cercare sostanze stupefacenti. Il corpo forestale dello Stato e la guardia costiera sono invece in Pineta e stanno dando dimostrazione di salvamento e di spegnimento incendi. Noi il rilevamento di un sinistro stradale, gli altri colleghi della polizia stradale stanno facendo un interessantissimo e sperimentato corso di polizia stradale e soprattutto educazione stradale all'interno del polifunzionale. Qual è il senso di questa giornata rivolta innanzitutto ai più giovani ma se vogliamo anche alla popolazione di Pineto? Il senso di questa giornata è quello del completamento di un corso che noi abbiamo tenuto con le nostre forze esclusive, con l'aiuto della scuola, e nella giornata di oggi con l'aiuto del PROS mi dicono anche della Croce Rossa italiana e diciamo così il senso è quello di voler insegnare ai ragazzi la legalità, di voler insegnare ai ragazzi che esistono degli eroi positivi e di voler insegnare ai ragazzi il rispetto delle regole all'interno dei contesti più diversi. Quest'anno invece che fare soltanto il corso alle terze abbiamo scelto di crescere i ragazzi dalla prima, è stata molto dura tuttavia grazie all'impegno anche di personaggi come il giudice di Avarone che ha insegnato la legalità ai ragazzi, il dottor del Principe e il dottor Pace che hanno parlato di stupefacenti, la polizia stradale e allo stesso momento anche di altri e noi abbiamo avuto un corso diciamo così migliore, più completo.